Musica Ci troviamo presso la sede di Confcommercio Napoli in Piazza Carità per un nuovo appuntamento con i seminari di formazione di FIMA Napoli. Questa volta parliamo di abusivismo edilizio e compravendita immobiliare. L'apertura dei lavori è stata affidata al vicepresidente Vincenzo De Falco, mentre gli interventi principali sono stati quelli del notaio Diomede Falconio di Notaract Italia e dell'avvocato Francesco Brescia di Lex Consult. Presso Confcommercio Imprese per l'Italia si è tenuto questo ennesimo evento formativo, uno dei tanti voluti dalla presidenza di FIMA Napoli, Saverio Iaccarino, che oggi non è potuto partecipare ed è per questo che lo sostituisco io in questa veste. L'argomento oggi trattato, quindi la compravendita immobiliare ed abusivismo edilizio, ha avuto una particolare importanza in una città come la nostra, dove purtroppo il disordine amministrativo risalente al dopoguerra ha prodotto una notevole quantità di difformità tra quelle che erano delle licenze edilizie eventualmente concesse, una storicità dello stocco edilizio partenopeo che naturalmente, essendo una città che ha alcuni millenni di storia e le testimonianze architettoniche ne sono una presente realtà, portano nella commercializzazione dei beni immobili ad una necessaria radiografia o addirittura tomografia assiale computerizzata della provenienza immobiliare. Il tutto miscelato con la necessaria tutela e trasparenza operativa che deve essere sempre offerta all'acquirente e preventivamente magari al venditore che non è assolutamente consapevole di tutta una serie di problematiche che affliggono il suo immobile. Innanzitutto bisogna dire che l'abusivismo è un problema sociale, soprattutto nei nostri territori meridionali e purtroppo una grande percentuale di immobili è toccata da questi vizi di abusività edilizia. Soltanto la consulenza e la professionalità di soggetti adeguatamente preparati nel settore giuridico, tecnico e commerciale può consentire ai titolari di questi beni di venderli senza avere problemi. E cioè soltanto un rapporto tra i professionisti che agiscono nel campo immobiliare, i notai, i legali, i tecnici, gli ingegneri, gli architetti e per la parte commerciale anche gli agenti immobiliari, un rapporto che abbia un senso di lavoro di equip può consentire a chi vende di stare tranquillo. L'abusivismo è un problema di illegalità e soltanto la diffusione di una cultura della legalità a tutti i livelli, a livello dei cittadini prima di tutto e a livello degli operatori, dei settori di mercato, può comportare un'elevazione della qualità della circolazione del mercato. Qui è un problema che ha delle radici profonde, che sono radici sociali, culturali, che poi si trasferiscono anche sul piano economico. Quindi una maggiore diffusione in generale della cultura della legalità è il primo antidoto all'abusivismo. Poi ci sono gli interventi di natura professionale e tecnica che ovviamente devono essere ispirati ancora di più al rispetto delle regole. Oggi abbiamo parlato insieme ai rappresentanti della FIMA della problematica dell'abuso edilizio all'interno della compravendita e abbiamo affrontato vari casi pratici su come deve comportarsi l'agente immobiliare. E all'interno del corso, quasi come senza volerlo, è emerso un concetto fondamentale, il concetto di valore aggiunto, che è quello che caratterizza un po' gli agenti immobiliari del settore e soprattutto della professionalità che questi devono avere all'interno della propria attività. Abbiamo delineato i vari casi di abuso, abbiamo parlato dell'immobile in assenza o di forme, abbiamo visto come si regola la giurisprudenza, quando bisogna assicurare l'atto e il preliminare e soprattutto abbiamo visto quanto e come spettano le provvigioni al mediatore, anche in ipotesi di immobile abusivo. E infine abbiamo detto, ma bisogna sempre vedere caso per caso, come risolvere le determinate problematiche, cercando di dare una chiave di lettura alla problematica. Ripeto, bisogna sempre vedere caso per caso e analizzare un po' ogni singola compravendita.